Come Leoni fosse all'opposizione di se stessa ci marcerebbe e con ragione. Io ho provato a mettere giù tutti i fallimenti che ha collezionato in questi dieci mesi e di cui quest'estate praticamente non si è parlato, perché quest'estate si è parlato di Gian Bruno, del generale Vannacci, di Giuliano Amato, presunte rivelazioni. Armi di distrazione di massa cavolate rispetto a una situazione che non vede alcuna soluzione. Ho messo giù i titoli dei fallimenti, calo del P, della produzione industriale e dell'occupazione. Fallito completamente il dopo reddito di cittadinanza perché non c'è lavoro, come è ovvio, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di reddito di cittadinanza. Super bonus, decine, centinaia di migliaia di esodati che non si sa che fine faranno, perché questi sono bravissimi a demolire le cose buone fatte dagli altri, come il reddito di cittadinanza e il super bonus. Condoni fiscali, migranti, una catastrofe. Le loro riforme, per fortuna aggiungo io, tutte incagliate. Autonomia, giustizia e premierato. Patto di stabilità europeo lo risolvono insultando Gentiloni. ITA, pare che tornino indietro i tedeschi, il PNRR, non ne parliamo. L'alluvione, lo stato della sicurezza al sud, il caso Caivano che pensano di risolvere mandando in galera i ragazzini o i genitori che non li mandano a scuola. Gli scandali, non ne parliamo. E poi il disastro della sanità, la scuola che riapre senza gli insegnanti. Caro Vita, caro Bollette, caro Accise che avevano detto che avrebbero abolito, caro Benzina, caro Alberghi, i turisti che espatriano in Albania con la premier che va a fare lo spot all'Albania, cioè a un paese concorrente, il caro Voli, il caro Mutui e la manovra senza soldi. Io mi domando, la Meloni la sapeva fare l'opposizione, ma che cosa direbbe se fosse all'opposizione di se stessa? Non ne hanno azzeccata una. Ma letteralmente non ne hanno azzeccata una. Se uno dovesse dire una cosa che hanno fatto in questo anno, non ti viene in mente.